Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo dell'allenamento vocale, anche se noi parliamo comunque tutti i giorni. Perché la voce comunque va allenata? Cantare in libertà Quando noi parliamo utilizziamo più o meno una quinta nella voce, perché dal suono più basso che noi facciamo al suono più acuto, mentre parliamo non abbiamo queste grandi differenze. Tipo incontriamo una persona, ehi ciao come stai? Insomma così, però non abbiamo mai degli acuti davvero grandi oppure dei suoni molto molto bassi. Non andiamo mai all'estremità della nostra voce, a meno che tu non sia un pazzo furioso. Mentre quando si canta si abbracciano anche due ottave, due ottave e mezzo. Tre in alcuni casi. E quindi la voce è sottoposta a maggiore sforzo, le corde vocali sono più tirate, diciamo così. Quindi va riscaldata. Come quando un atleta deve entrare in campo per fare una partita di calcio ad esempio. E quindi prima deve riscaldarsi e poi deve cominciare a giocare. Se proprio non avete la possibilità di fare dei vocalizi prima di un'esibizione, cercate almeno qualche esercizio semplice che vi aiuti almeno a mettere in moto quello che è tutto il sistema fonoarticolatorio. Alcuni esercizi semplici possono essere mantenere la lettera S ad esempio dritta, o fare dei trattini. Oppure per utilizzare anche le corde possiamo fare dei suoni muti a diverse altezze, con la M ad esempio, tipo mucca. Oppure con la N per andare più in alto, più verso una voce di testa. Anche un po' più picciosa, se voglia. Tipo un pianto. Quindi questi piccoli esercizi che ci possono almeno iniziare a far riscaldare le corde e a far mettere in moto un po' tutto il nostro sistema fonatorio. Fonatorio? Sistema fonatorio. Questi esercizi fatti ogni giorno, anche 5 minuti, 10 minuti al giorno, comunque vi daranno più consapevolezza di come funziona la nostra voce, più stabilità al canto. E quindi allenatevi ogni giorno, almeno 5 minuti, e ricordatevi che in qualsiasi campo, per migliorare, c'è bisogno di allenarsi. Grazie. 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 Grazie.